Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, eccoci qui in diretta anche oggi, 15 ottobre, sono le 7.08 e magari chi ci sta seguendo invece in video noterà che non siamo nel nostro solito studio, ebbene sì, perché oggi siamo in esterne, siamo venuti, siamo stati ospiti anzi oggi, quest'oggi i nostri ospiti ci ospitano, sapete questa cosa che non si capisce mai chi è l'ospite, quello che ospita, quello che viene ospitato, beh in questo caso siamo da pane e dolci, un prestinè, un panettiere, un prestinè come si dice dalle nostre parti, no? E sì, così siamo qua, in realtà siamo tutti per cercare di scroccare brioche, dolci, tutto quello che c'è nel senso della verità, e questa la redazione non mangia da tre giorni, perché per prepararsi a questa diretta, grazie davvero, grazie a Cristian e Sonia che ci hanno ospitato qui questa mattina, così perché stiamo andando in tour, ci piacerebbe andare in tour in queste settimane, in giro per la città, quindi anche voi se volete che veniamo nel vostro, di cosa abbiamo bisogno Beatrice, chiedo a Beatrice della redazione, abbiamo bisogno di un nuovo paio di scarpe, ecco se avete un negozio di scarpe veniamo volentieri a fare, Noi veniamo a gratis, però nel senso, ah un bel maglione ti serve, perché arriva l'inverno, dice Beatrice, avete un maglificio, noi facciamo la diretta dal maglificio, ci mancherebbe, siamo veramente, cioè ci comprate con pochissimo, cioè una brioche, oggi noi siamo a posto, quindi con un maglioncino per Beas, fate un maglificio e quindi siamo pronti 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 il nostro numero di whatsapp, perché anche qui potete raggiungerci con vostri whatsapp, ma soprattutto potete raggiungerci, vi abbiano proprio i sconti 11, se volete, siamo qua in vetrina, poi vi facciamo vedere, c'è proprio la strada qua di fianco, se passate, bussate la vetrina, venite dentro e facciamo due chiacchiere, così possiamo passare la mattinata insieme, mattinata che va avanti fino alle 9 qui con Good Morning Milano, questa è Crystal Radio, lo sapete, 96.2 FM, Dub Plus, l'applicazione per iOS e Android e tutto quello che ne consegue, insomma, ci sono veramente mille modi per sentirci, per ascoltarci e soprattutto per partecipare con noi, 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 5 E questo era Blondi con Call Me, 7 14 minuti, Crystal Radio, oggi 15 ottobre, appunto, ve lo dicevo, Good Morning Milano, ecco, ho già la colina, ragazze, ecco, abbiamo, ha già avuto la nostra paga per oggi, ecco qua che producer e regista stanno già addentando le brioche qui del panettiere, quindi insomma buone, sì, appena sfornate oltretutto, ecco, quindi appena sfornate, va bene, se anche voi volete addentare insieme a noi la vostra brioche mattutina, ecco, 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5, il nostro numero di whatsapp, io ho fatto la stupidaggine di dare già, mi piace che state fermi di così, fate finta di essere animate, così almeno, va bene, no, che ce li ho qui alle mie spalle, che sono ferme così, fanno le comparse, allora volevo capire un po', comparse che mi rilanciano, un attimo la notizia che ho letto in questi giorni sui giornali, continua la bagarre, oggi ancora è sui quotidiani milanesi, la questione del sindaco, nel senso che il nostro sindaco, il sindaco Sala ha fatto un endorsement per, ricordiamocelo Mario Calabresi, qualche giorno fa appunto ha detto, lo vedrei bene come mio successore, questo succedeva intorno, non so, adesso invento un orario, intorno a mezzogiorno, ecco, mezzogiorno e un quarto, già Calabresi ha detto no, non esiste, non se ne parla minimamente, allora ieri, cosa ha detto? Il sindaco ha detto basta, non dico più niente sul mio successore, non sto più a raccontarvi niente, chiudiamo qua questa polemica, polemica che alcuni, anche della maggioranza, ad esempio il nostro radio, Carlo Monguzzi, ecco, appunto Carlo Monguzzi, sì perché ha detto, beh, ma ha fatto tutto lui, l'ha innescata questa, l'ha messa in piedi questa, questa polemica, poi l'ha disinnescata da solo e adesso dice basta, non facciamo più polemiche, insomma, è un po' la questione del, del farle comparse, no? Così, ha detto, abbiamo bisogno di questo, di quell'altro, ricordiamo anche, durante l'inaugurazione della M4, il sindaco ha proprio detto, ringraziando prima, il sindaco, l'ex sindaco Gabriele Albertini, dicendo, se oggi possiamo fare questo è grazie anche a chi mi ha preceduto, ma soprattutto ha detto, e quello che io faccio oggi sarà per chi vi riceverà dopo, eh, ma questo chi verrà dopo, insomma, ha lasciato un attimino tutti, così come dire, di chi sta parlando, cosa sta dicendo, sono state fatte domande ancora, al sindaco proprio su questa questione, ma, appunto, non ha voluto rilasciare altre dichiarazioni, e anzi, ha voluto dire, no, basta, non ne parlo più, anche perché, a margine, come si dice in questi casi, il PD, insomma, non è che l'aveva presa benissimo, dicendo, ferma tutti, cioè, non è che dici di tu, sindaco, chi sarà il tuo successore, siamo noi, siamo la coalizione, siamo il PD, il partito principale a Milano, e insomma, dobbiamo anche avere la nostra, e quindi, insomma, diciamo che anche questa volta, Sala, secondo me, è sempre così, cioè, lui ha sempre le migliori, delle idee, nel senso, ha voglia di fare, e poi però sbaglia, e la gente si incazza, e questo, insomma, ha questo, ha questo potere di riuscire a far arrabbiare sempre chiunque, anche quelli che in realtà dovrebbero essere dalla sua parte, quindi, insomma, è abbastanza interessante capire come forse adesso davvero conviene che faccia il suo, tranquillo, nei suoi uffici, vada in giro nella città a vedere quali sono le problematiche da risolvere in questi due anni e mezzo che mancano, alla fine sono andato, e non si metta, e non entri in altre dinamiche, che magari, appunto, potrebbero innescare polemiche e innescare anche poi tutto un ginepraio da cui poi non è minimamente facile uscirne, soprattutto, ripeto, è quello che fa un po' così specie, è che, che arrivino dalla opposizione, le critiche è abbastanza normale, diciamo, e le opposizioni fanno il proprio lavoro, che arrivino dalla sua parte, insomma, quello è un po' meno normale, e ne arrivano spesso tante, abbiamo visto, appunto, i Verdi, spesso con Monguzzi, ma anche gli altri, sempre abbastanza sul piede di guerra, anche gli Sticili, che ogni tanto, insomma, storciono il naso, ma ha, in questo caso, anche il PD, che, insomma, è sempre stato il grande alleato, comunque, del sindaco Sala, insomma, questa è la situazione, una situazione sicuramente non semplice per la politica milanese, anche perché, se da una parte è così, dall'altra, chissà. E questo era l'Azza, questo era l'Azza alle 7.21 minuti, al 331-7853-555, ci stanno scrivendo, Beatrice è dall'altra parte dello schermo, in questo caso, non del vetro, come di solito, perché ha il Whatsapp da lì, cosa dicono, Bea? Esatto, e c'è puntualissimo Alberto, che ci scrive un saluto a quelli del panificio, a Fabio e Beatrice, poi ci dà una piccola parentesi personale, dicendo, questa mattina sono ancora a letto, un po' di mal di stomaco, ci dispiace. Avrà preso freddo sul ponte della M4, no, perché è arrabbiato che non gli aprirono il ponte, adesso finalmente gli hanno aperto, però, insomma, magari è alto. E poi chiede se c'è anche Ginevra, e nel caso, un saluto ovviamente anche a lei. C'è anche Ginevra, l'avete vista prima qua dietro che ruminava insieme a te con le brioche, vi stai subito prese le brioche, che il buon Cristian ci ha fatto, anzi, salutiamo allora Cristian, appunto. Anche buongiorno a Cristian. Cristian, dacci un saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno Cristian, grazie mille. Non può dirci tanto perché mi ha detto che deve stare all'occhio al forno. E io gli ho detto, capito, ma quanto manca fa? No, no, all'occhio proprio, cioè, devo guardarlo, devo vedere, perché è così, cioè... È così che fanno la magia i panettieri, insomma. Brava, brava, un po' con l'olfatto e un po' con la vista, no? Cioè, quello che funziona per capire, cioè, lei che dici, come io e te, quanto è il forno? 20 minuti a 180 gradi, che poi non sappiamo neanche cosa vuol dire. Io lascio sempre 5 minuti più. Così, a caso. Nel caso. Ecco, ad esempio, non potresti mai fare le meringhe, giusto? Chiedo a Cristian, perché le meringhe devono essere fatte al secondo, vero? Così mi hanno detto. No, ah, no, no, anche lì a occhio. Hai sbagliato. No, allora, dopo ce lo spiegherai, dopo ci spiegherai bene la cosa delle meringhe, perché l'ho fatto una volta e sono utili di dischetti, praticamente... Vediamo se degli dischetti, quelli che per struccarsi, quelli che è uguali. Ero venite cose così, dei dischetti struccanti durissimi, che puzzavano di uovo. Quindi in realtà è una cosa buonissima, infatti. Manco il cane si è voluto mangiare. Comunque, se volete fare come Alberto, 331-78-53-555, il nostro numero di WhatsApp. Tanta la musica che ascolteremo questa mattina insieme, tante notizie che andremo a leggere, e tante poi le persone che comunque arriveranno qui, che insomma adesso è ancora presto, ma poi insomma c'è gente che va, gente che viene. Poi qui c'è ancora una scuola, quindi fa un po' arriverà Lord Assassino, tutti quanti che arrivano giù. I bambini urlanti. Sì, arrivano giù, giù la massa di bambini urlanti. Noi a quel punto speriamo di essere in onda col giornale radio, così possiamo andare in pausa. Un saluto a tutti i bambini che vanno alla scuola qui. Noi amiamo i bambini. Una scuola, non so come si chiama questa scuola. Tra parentesi, questa scuola qui che c'è qua, di fianco a Via Lemnè, via Costant credo la scuola, ha una cosa particolare, una volta all'anno fanno la festa medievale. Buongiorno, buongiorno, prego, intanto arrivano anche i clienti del panettiere giustamente, quindi adesso chiediamo cosa prende, ascolta Bea, cosa prende, cosa prende, vediamo, cosa prende di buono? Una pizzetta, ha preso una pizzetta e una focaccia. Possiamo sapere cosa ha ordinato stamattina dal panettiere. Una pizza e una focaccia per i miei figli. Oh, vedi che bello, questo è un bravo papà, mica come il tuo. No, scherzo Bea, no, no, scherzo, no, anzi, sappiamo che è una roba di me, ma tanto, tanto bene la Bea. E ci chiediamo come che è anche, nel senso, no, no, vedi ecco, queste sono belle notizie che vengono la mattina, le magie che vengono qua la mattina, le magie che vengono nelle attività commerciali, che sono proprio un punto, poi adesso vediamo, comincia, poi c'è gente che si conosce, che arriva, Eh, ciao Alberto, eh Giovanni, come va, tutto bene, eh, me l'hai fatta a Brioche, no, oggi l'ho fatto del cannoncino, benissimo, è così, perché poi funziona così, no, questa è appunto la magia che potete vivere qui a pane e dolci, il nome ti spiega tutto, no, pane e dolci. Perfetto, perfetto, per un po' di sconti undici, qua, a un passo dallo stadio, quindi se andate allo stadio potete passare di qua a mangiarvi una robina. Sette, ventisette minuti, sempre qui in diretta, Good Morning Milano, Crystal Radio, da pane e dolci, qui in via Brabovi Scontino, attraverso Ivianovara, siamo in zona San Siro, insomma, sì, non siamo atti lontani dal nostro studio, lo so, però, eh, insomma, così, era comodo, era comodo, siamo amici, ci conosciamo, ci ospitano, quindi perché dire di no, mi sembra al minimo. Comunque, rimaniamo qui tutta la mattina fino alle nove, quindi se passate da queste parti, oh, siamo qua, siamo qua, potete venire a raccontarci un po' quello che volete fare questa mattina, potete venire qua a provare tutto questo ben di Dio che ho qui davanti agli occhi, che io non posso mangiare, presto a poi non posso parlare in radio, ma vi assicuro, vi assicuro che è molto, molto invitante. Comunque, andiamo avanti con la musica, poi ritorniamo qui, fra pochissimo, dopo qualche consiglio per gli acquisti, ancora qua, con Good Morning Milano. E Credence Clearwater Revival, Proud Mary, alle 7.37 minuti, Cristian Radio. Oggi è il 15 ottobre, ve lo dicevo, insomma, il teo, la cosa bella di stare qui in vetrina, che possiamo darvi le previsioni del tempo senza dover guallare i monitor, ad esempio, che abbiamo invece in studio, no? Qui vedo un sole che sta pian pianino facendo capolino tra un cielo azzurro velato di piccole nuvole bianchicce, bianchicce, va bene, come ho studiato proprio da meteorologo, no? Leggermente rosate ancora, quindi dalla luce dell'alba, dalla luce del Good Morning Milano, dalla nostra luce, qui abbiamo una luce che sta illuminando tutta Milano, in questo momento, ovviamente, perché vedo un riflesso viola anche sulle nuvole, e soprattutto, forse, che sta a significare che oggi non piove. Quindi, insomma, forse, mi piace, la previsione del tempo, forse. No, sicuro che oggi non piove, la Beatrice, che è più meteorologa di me, mi conferma dal backstage, che invece non piove oggi. Invece, piove sempre sul bagnato, questo si potrebbe dire, perché invece ieri, per l'ennesima volta, guasti sulle linee Trenord. Guasto nella stazione di Milano-Certosa, ancora ritardi per l'alta velocità tra Torino e Salerno. Pensate voi, c'è un guasto a Milano-Certosa e ne risente tutto il paese. Disagi, davvero, per i treni dei pendolari, di Trenord soprattutto. Dopo il guasto, la circolazione è ripresa, normalmente, già, ripresa, scusate, normalmente, ripresa alle 9.40 del mattino, quindi, in realtà, insomma, hanno fatto anche abbastanza in fretta, ma i rallentamenti sono andati avanti, almeno, diciamo, per tutta la mattinata, se non qualcosa anche già nel primo pomeriggio. Questo è quello che, appunto, è successo ieri. Circolazione dei treni nel nord di Milano e nell'ovest della Lombardia, fortemente compromessa a causa di un guasto nell'infrastruttura della stazione di Milano-Certosa. Guasto che è venuto in ora alle 6.40 del mattino e si è prolungato per almeno tre ore il guasto. Dopodiché, appunto, alle 9.40 è ripresa la circolazione, ma con dei rallentamenti assurdi che hanno portato a ripercussioni non solo sul nord a quel punto di Milano, ma su tutta la rete ferroviaria italiana, anche sull'alta velocità, fino quindi, fin anche, come dicono quelli bravi, anche sulla Torino-Salerno. Quindi, insomma, pensate, davvero, come forse, mi verrebbe da dire qui, invece di stare a litigare su chi è più bravo o chi è più figo, staremmo forse a capire chi invece dovrebbe andare a sistemare questa situazione, a prescindere, come dico sempre, dal colore politico, cioè cercare di trovare una soluzione che unisca. Capisco che da una parte c'è il comune che dice noi siamo bravi perché facciamo l'ATM, siamo i più fighi del mondo. Dall'altra c'è la Regione, la Regione non siete capaci di fare questa roba qui, la Regione dice, ma non abbiamo le risorse perché ce le avete voi. Insomma, è sempre abbastanza complicata la situazione, ma se continuiamo a litigare su queste cose va a finire che con quello che vi parte. Ecco, perché infatti ieri, adesso colleggo i punti, ieri noi in redazione eravamo uno in meno perché, appunto, la nostra Laura non è potuta arrivare in redazione per via di un guasto, per via di un problema ai treni, e alla fine si è ritrovata in quel di Vanzaghello, perché è una cosa del genere, sperduta nella zona ovest della pianura padana milanese e non sapeva dove deve andare, alla fine era dovuto prendere un pullman che la riportasse nelle sue zone, nelle vicinanze di Varese. Ecco, questa è la situazione, cosa che, insomma, a Milano adesso con questa M4 sembra finalmente scongiurata i grossi problemi, anche se, ripeto, stanno uscendo fuori delle piccole notizie sull'M4, l'ultima, leggero stamattina, nella fermata di Sant'Ambrogio, attenzione a non aprire quella porta, è proprio così, sembra un film, e invece no, c'è una porta con scritto non aprire, caduta nel vuoto. La CGL ha denunciato, infatti, il fatto che c'è questa porta, accessibile solo ai dipendenti, ai lavoratori, così, ma comunque accessibile, che se si apre si finisce in un cavedio completamente vuoto e si fanno quattro piani di burlaggio, quindi, insomma, non è proprio il massimo. Forse, anche qui, la fretta di aprire queste stazioni non ha portato a controllare tutto, tutto quello che funziona per bene. Come, come, come. Claudim con Come, qui in diretta su Cristal Radio Goodman di Milano da Pane e Dolci, e ovviamente siamo qui, adesso è un attimino, il forno a occhio è andato bene, perché non è esploso e non sentiamo forse di bruciato, quindi a occhio, sta andando tutto bene, ma anzi, Beatrice, con chi sei qui? Ma perché non me lo dice proprio la nostra ospite? Con chi siamo qui oggi? Con Sonia di Pane e Dolci, Milano, sono la titolare con mio fratello di questo... Che non si vede, ma... Ognuno, Sonia, ognuno ha le sue croci, ognuno ha le sue croci, mi spiace. È vero, Fabio, che sta sfornando le nostre torte di carote, oggi torta di carote, e in più, vabbè, adesso abbiamo già preparato tutto, focacce, pizze, i vari dolcetti che facciamo tutti i giorni, le brioche fresche, e niente. Qual è un pro e un contro della vita da panettiere, della vostra routine, insomma? Vabbè, che sei sempre qua. No, nel senso, a me piace il mio lavoro, per prescindere, mi piace stare a contatto con la gente, però, vabbè, il contro è che, appunto, ti alzi presto, vai a letto come le galline... Quindi è vera questa cosa che dovete alzarvi, a che ora vi alzate la mattina? Vabbè, 9 alle 4, per preparare tutte le cose. Bea, ci batto. Quindi andate a letto, Alle? Io vado prestissimo, sono una gallina, vado a letto tipo alle 9. Vabbè, su quello va come me e te, Beatrice, nel senso, ci svegliamo alle 5, 5 e mezza, noi, ma comunque alle 9 andiamo a letto. Quindi, beh, questo è la vita di chi ha un'attività commerciale, comunque, noi panificio, pasticceria, quindi, vabbè, abbiamo questi orari, però, comunque, sei sempre qua, sei sempre chiuso nella tua piccola attività, almeno la nostra è piccola, poi ci sono quelle che sono un po' più grosse, però... Ma ti è sempre piaciuta l'idea di lavorare in un panificio, hai iniziato da piccola, mi dicevi che era di tua mamma, giusto? No, perché io ho studiato tutt'altra roba, io ho studiato per fare la parrucchiera, l'estetista che non c'entra un cavolo con questa attività, poi mia mamma, lei era pasticcera, aveva aperto l'attività, noi siamo cresciuti, perché ovviamente eravamo più piccoli, e abbiamo iniziato a lavorare tutte e due con mia mamma, adesso lei è in pensione, per fortuna, e quindi andiamo avanti noi, noi due. Beata lei, beata lei che è in pensione. Sì, è contenta. Beata lei che è in pensione, infatti. È vero, è vero. Sì, no, no, ti ripeto, a me mi piace, perché mi piacerebbe, mi piace stare a contatto con i clienti, la gente, ogni giorno vedi gente diversa, se no vedi comunque i clienti abituati, tutti i giorni della zona, e quindi hanno sempre qualcosa da raccontarti, sempre qualcosa da dire, e quindi è divertente. Poi, Sonia, questo è proprio un negozio di quelli di quartiere, qui avete tanta gente che viene qua, anche solo quasi per passare a salutare a volte, nel senso, no? Sì, è vero, è vero. Offrire un caffè, passano, vengono, andiamo a bere un caffè. E nonostante tuo fratello tutto questo, cioè nel senso, comunque, nonostante tuo fratello, cioè anche questo, no, Sonia, c'è capito? Sì, vedi che infatti... Il potere, il potere, no? Ma è quello che va a bere il caffè, di solito è lui, perché io il caffè lo bevo solo al mattino presto, quindi non vado quasi mai a bere il caffè, e fa lui da, come si dice, da quello che va a bere il caffè con i clienti. Bene, Bea. Ottimo. Benissimo, rimani lì però, perché adesso ci ascoltiamo una canzone, sì, ascoltiamo una canzone, però poi vogliamo sentire anche il fratello, cioè lo tiriamo fuori dal forno, lo sforniamo, lo sforniamo e sentiamo anche Crista che cosa ha da dire. Donatella Rettore con il Cobra, e i rumori che sentite, la confusione che sentite, perché appunto, come dicevamo, ci sono poi i clienti abituali, o ancora meglio, i colleghi delle altre attività commerciali della via, no? Che vengono a trovarci. Bea, con chi sei? Si sono raddoppiate le persone attorno a me, è incredibile, si aggiunge sempre qualcuno, siamo qui con... Vladimiro. Piace, pensa che come poi, già capisci. Esatto, lei è un cliente assiduo. Un canto accanto, nonché cliente abituale, sono venuto a prenotare le brioche. Ah, e che brioche prende lei? Quando... Marmellata e Nutella. Marmellata, mia preferita. quale marmellata però? Albicocca. Ottima scelta, non abbiamo niente da giudere. Allora, abbiamo scoperto che Sonia ha studiato per fare estetista parrucchiera. Esatto, ce l'ha detto. Poi ha conosciuto Vlad, è fallita l'attività, nel senso che non poteva fare... no, perché chi non ci segue... perché chi non ci segue... diciamo che... eh... perché chi ci segue il radio e non sta vedendo il video, diciamo che Vladia ha questa grande chioma per cui avrebbe andata un po'... no, scherzo, Vladimiro. Nuova Suma, giusto, qui di fianco, no? Giorni importanti o sbaglio? Non c'è cambio gomme in questi... Eh, sì, adesso comincia cambio gomme, siamo attenzionati a questa cosa perché sarà il momento più duro della stagione dove la fatica si farà sentire, insomma. Ecco, cambio gomme, appunto, mi raccomando, ricordatevi di cambiare le gomme, mettere quelli invernali che dopo vi lamentate, mi sdruccio, non mi ferro, non mi faccio le rotostrade, non c'ho le cartelle... ecco, andate a cambiarle così almeno fate prima. Va bene. Sonia, io ho una domanda, mi hai detto che tu hai studiato appunto per fare estettista parrucchiera, no? La domanda è è più difficile fare uno chatouche o una meringa? Lo chatouche non c'era neanche quando ho studiato io. Ah, vedi, ah. Pensa a te, cioè, io ho studiato nell'Ottocento. 35 anni fa, voglio dire. Intanto salutiamo Vladimiro che va, appunto, a tirare su la bottega, ad aprire la fabbrichetta, no? Come si dice in questi casi. Quindi non esistevano neanche, c'erano le mesh. C'erano le mesh. E' più difficile fare una mesh o fare una meringa? No, la meringa, uovo, cioè. Ma perché? Per me, allora, cioè, io sono convinto sia la cosa, ma io sono convinto sia la cosa più difficile al mondo fare la meringa. Invece no, non è così difficile. Anche io ho sentito... Tristan, non ti nasconda, Tristan, vieni avanti. Io non sono quella che fa protanta produzione. Tristan, vieni avanti, dai, fatti vedere. È solo questione di cottura. Allora, aspetta, dagli il microfono e sentiamo cosa dice. Questione meringa. È solo questione di cottura. Ok. Ovviamente deve essere montata bene e poi la cottura. La cottura è il forno. Ok. Semplicemente si deve scaldare il forno. Bene. Portarlo intorno a 100-120 gradi. Poi dipende, i forni da casa sono diversi da freddo nostri, il problema è anche quello. Dopodiché si spegne il forno e si lasciano tutta la notte dentro. Ah. E magicicamente la mattina sono cotte. Vedi, forse era quello che... Quanto ho fatto io, l'ho fatto col microonde, tre minuti e via. Forse ecco qual era il problema. Col microonde. Forse era questo il problema. Col microonde. Forse era questo il problema. Adesso la prossima volta le faccio e vengo qua a infornarle, va bene. Come si faceva una volta che c'erano i forni di quartiere, no? Quando c'era il fornaio, il fornaio appunto, non il panettiere. C'era il fornaio all'epoca. una volta era fornaio, panettiere. Volevo capire una cosa però. Il panettiere più famoso in Italia è Fabio Volo. Cioè, diciamocelo nel senso... È vero, è vero, anche lui ha fatto il panettiere quando era giovane. È la vostra speranza... No, lo zio, lo zio, lo zio, la vostra speranza è diventare scrittore un giorno anche voi? È che... No. Ah no, carità, non lo capiese. Per carità, non ci da me diventare scrittrice. Propedeutica la cosa. Va bene, grazie mille, torniamo fra pochissimo di nuovo in diretta sempre qui perché andiamo avanti fino alle nove qui in diretta da pane e dolci, benamove sconti undici in attraverso di Lianovara, fate un giro da queste parti, ci trovate anche noi, se volete venire qua ci mangiamo una roba insieme, ci beviamo un caffè insieme e magari appunto ci raccontate anche la vostra giornata. Potete farlo anche al 331-7853-555 il nostro modo di Whatsapp è pronto qui davanti a me a ricevere i vostri messaggi. Adesso un po' di musica, il giornale radio e poi torniamo ancora qua in diretta fino alle nove per raccontarvi tutto quello che c'è a Milano e vedere anche un po' appunto sentire il sentimento, le voci di come vive la città alle prime ore della mattina. E rimanete qua con noi, Cristiano Radio, Good Morning Milano. Time after time, cindilo per 8 e 16 minuti, anzi 8 e 17 minuti in questo istante, sempre qui in diretta al 331-7853-555 potete scriverci, potete raccontarci quello che state facendo in mattinata, in giornata oppure anche quello che avete insomma in programma di fare nella vostra giornata. State per andare al lavoro, come ci andate? E soprattutto come fate la colazione? Questa è la domanda. che mi pongo questa mattina essendo qua, ho visto che insomma va al momento mi sembra che stia andando a pari merito sia il dolce che il salato, nel senso che c'è chi prende la brosce ma c'è stato anche un bel po' di focaccine che sono partite, non so se per fare lo spuntino poi di metà mattinata o se per fare già la colazione salata come molti osano, usano fare o osano fare dipende dalle interpretazioni. Comunque siamo qui, ve lo raccontavo appunto fino alle ore 9 in diretta e vi raccontiamo un po' quello che avviene nella mattinata. insomma adesso poi sentiremo anche le varie voci di chi in questo negozio ci viene e di chi vive anche il nostro in questo quartiere appunto il quartiere noi siamo qui nella zona di Quarto Cagnino Barra San Siro questo quartiere dove siamo aveva un nome o altrimenti Pubiet si chiamava perché c'erano due grossi pioppi all'inizio della via e quindi gli anziani di questo posto ricordano ancora quando appunto si chiamava semplicemente potremmo dire appunto I Pubiet chissà quanti anche dei vostri quartieri da cui ci state ascoltando hanno dei nomi che magari sono meno conosciuti che ne so voi pensate che Grattosoglio e invece poi anche c'è Basmetto che è lì vicino che è una parte diciamo o magari anche dei sottoquartieri dei sotto insiemi di poche vie che prendono magari dei nomi particolari perché c'era quell'attività o perché c'era magari quel personaggio via Fratellizzòi ad esempio c'è la cascina all'interno quindi molti hanno sempre chiamato quella zona quella della cascina all'interno o magari anche la rinominavano quella del Prederatana ad esempio che c'era questo personaggio tra il mitico e il mistico che viveva appunto all'interno di quella cascina appena fianco anzi insomma era un personaggio un prete un po' sui generis per molti per altri è stato invece un personaggio importante della zona ovest di Milano appunto parliamo zona parco delle cave quindi anche voi da dove ci stai ascoltando 3317853555 ci potete raccontare tutte le mattine siamo qui a sentire un po' la vostra vita e noi cerchiamo appunto in cambio di darvi un po' di musica e un po' di racconti dalla città come quello che stiamo facendo oggi qua da pane e dolci appunto cercando di farvi sentire magari anche il profumo che noi sentiamo molto molto bene degli sfornati che stanno uscendo in questo momento e che vi assicuro non è semplice raccontare e non avere l'acquolina in bocca riuscire a parlare al microfono con tutto questo buon profumino che sento intorno comunque la musica la musica la fa sempre la padrona qui a Crystal Radio e quindi non possiamo che andare con la prossima canzone che è Cesare Cremonini che ci dice ci racconta di quando non ha più lei o meglio ora che non ho più te alle 8 e 20 minuti Crystal Radio Good Morning Milano 8 e 24 minuti Crystal Radio di nuovo in diretta anche con le notizie perché insomma abbiamo anche le notizie da leggere io ce li ho qui adesso sul mio iPhone mi sono aperto le nostre pagine che leggiamo quotidianamente quella di Repubblica Milano quella di Corriere della Sera Milano quella di Viano Today ma anche vi ricordo i giornali di quartiere sono fondamentali i giornali di zona ad esempio qua abbiamo il 18 ma c'è anche zona 9 c'è il 4 c'è tantissimi giornali che potete andare a trovare in giro per la città perché sono fondamentali perché vi raccontano la vita e le situazioni che appunto potete notare raccontare vivere ogni giorno nel vostro quartiere sulle vostre vie cioè è quello che è bello nel vivere appunto i quartieri nel vivere appunto la città di Milano intanto passano anche qui fuori dalla vetrina i clienti abituali gli amici della zona quindi insomma si salutano ed è questo che è appunto è il bello delle attività come c'è di zona c'è il senso al pane effettivamente non lo comparto ovunque ma perché andare in un negozio così proprio perché magari c'è quel gusto in più non solo nella capacità di fare il panificato come vi ho detto in questo caso ma anche perché appunto si vive meglio anche la situazione la visione del quartiere anzi avete sentito un po' anche si saluti la gente che passa viene salutata insomma il bello è il bello non della diretta ma anzi è il bello di avere dei quartieri avere delle zone di Milano che davvero sono come se fossero dei vecchi pieni borghi di vita e di esperienza questo è quello che succede a Milano Milano che è una città però lo sapete di rigenerazione Milano con i render Milano con i grandi gratacieli Milano che deve rivedere però tutte le regole sì perché lo leggiamo da Repubblica Milano alla fine succede questo dopo le inchieste il comune si deve rendere stretta sui permessi facili e nuove torri ecco come cambiano le regole del PGT allora c'è un articolo che vi consiglio di andare a leggere su Repubblica Milano due minuti di lettura dice quindi non è anche difficile andare a leggere leggetevelo tutto perché appunto Sala ha aperto ieri il forum anzi quest'oggi ha aperto il forum della rigenerazione urbana l'iter di revisione del piano di governo e del territorio ci vorrà pensate un anno per approvare questo nuovo PGT per approvare queste nuove regole che dovrebbero appunto dare delle indicazioni un po' più precise su come costruire e su come rigenerare questa città perché insomma sappiamo che sono passate delle rigenerazioni delle ristrutturazioni sistemiamo due box ed è avuto fuori una torre da 20 piani e insomma trovate magari queste situazioni nel cortile di una casa e non è proprio il massimo per tutti e quindi adesso bisogna rifare le regole bisogna rimettersi lì a tavolino pensate si stima un anno almeno per capire le nuove regole per capire che cosa bisognerà fare questo è quello che appunto leggiamo oggi da Repubblica Milano dateci un'occhiata a questo articolo molto molto interessante scritto molto bene vi spiega tutto quello che potrà essere appunto l'iter e come potrà cambiare anche il nuovo piano regolatore il nuovo PGT e anche soprattutto quali potrebbero essere le indicazioni per la Milano del futuro una Milano che sicuramente deve rigenerare una Milano che ha voglia di guardare al futuro ma che deve anche capire come farlo senza dare troppo potere all'una o all'altra parte e senza rischiare di essere la patria della gentrificazione lo sapete sì quella roba lì per cui riceneri ma poi gli abitanti del posto gli abitanti storici di quella zona gli abitanti storici di quelle vie devono andarsene perché perché i prezzi sono troppo alti perché gli affitti sono troppo alti e perché gli stipendi invece rimangono sempre quelli e quindi non è semplicissimo quindi cosa dobbiamo fare dacci un'occhiata un'occhiata a questo articolo sulla Repubblica Milano dopo le inchieste il comune si arrende stretta sui permessi facili e nuove torri ecco come cambiano le regole del PGT Achille Lauro con amore disperato 8.35 minuti in diretta qui su Crystal Radio Good Morning Milano ancora sempre da panni dolci che è nel pieno della sua attività no Ginevra lo starò a vedere anche sulla nostra il nostro canale YouTube in questo momento Beatrice è davanti a che tipo di pane vediamo se impari i nomi dei pani a cui sei davanti allora c'è di sicuro il pane arabo che è l'unico che non vedo ecco benissimo è l'unico che ho sentito nominare poi beh allora c'è quelli davanti a te questi qui non si chiamano tipo michette no no è fatto come una scacchiera una scacchiera sì più o meno o come come quelli che guardi sempre nei ragazzi quando si toccano la maglietta è fatto come gli addominali quindi hanno l'ata la tartaruga tartaruga bravissima mi sembra essere Bonolis con Laurenti che cerca di fargli indovinare le risposte alle domande va bene però qui ci sono anche i bocconcini credo si chiamino così credo non lo so immagino ok poi c'è il grano duro le pagnotte grano duro lievito madre ah visto vabbè l'arabo eccolo dove è l'arabo eccolo sì perché è ormai quasi finito le mattonelle di grano duro e appunto i bocconcini che hai detto tu che sono sempre di grano duro poi c'è l'integrale o bocconcini all'oglio cos'è quello di fianco l'integrale cos'è soglia l'integrale 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 che è ottimo per la vostra dieta quindi se volete l'integrale quello che vi mettono sempre il panino l'integrale si può va bene ok ma io ho domanda Sonia va più il dolce o il salato com'è che viene divisa qua la o va orari come funziona quello che preferisco io o prima quello che preferisci tu poi come sono i i sellers i best sellers della io mangio tutto quindi a mezzamattina al mattino vabbè brioche appena sfornata solitamente col cafferino e via poi mezzamattina magari una focaccina piccolina giusto per dappare un pochino però io mangio tutto dolce salato non faccio differenze però fai palestra qualcosa perché insomma non vediamo che sei in forma quindi troverai il modo di no nessuna palestra si credici dice così infatti ma ci sarà una cosa però adesso ci sarà una cosa invece che non ti piace che non ti piace di tutto quello che avete c'è una cosa che non ti piace purtroppo non mi piace ma perché non mangio uvetta ah ecco il nostro ciambellone con l'uvetta che è una cosa che vendiamo tantissimo perché piace tantissimo però a te è quella proprio uvetta che non mangio uvetta quindi quindi neanche il panettone con l'uvetta sai che facciamo noi i panettoni tra un po' inizieremo anche la produzione del panettone ma non lo mangio lo faccio la scarto la scarto la scarto la scarto l'uvetta che è una cosa che ti dico che c'è un posto buonissimo in Berrova Visconti che fa il panettone al cioccolato che è molto buono non so se l'hai mai provato pane dolce si chiama infatti ne so qualcosa infatti ditemi quando dovete cominciare a venire a fare le prenotazioni eh tra un po' tra un po' a metà dopo i morti penso che iniziamo a fare iniziamo poco un po' di produzione le ordinazioni per Natale invece chi vuole già ordinare può già ordinarle perché comunque ci vogliono ci vuole tempo a farlo ma dopo infatti chiediamo a Cristian perché so che è lui il mastro panettoniere esatto è lui che li fa quindi ci vuole abbastanza tempo è lui che si mette a testa in giù no? perché hanno preso a testa in giù si mettono a testa in giù è lui che si mette a cuocerli a testa in giù quando sono cotti ah no ah non si mette lui a testa in giù si mettono a testa in giù si mette a impastare si fanno raffreddare e poi io passo poi all'incarto delle varie confezioni ma del panettone ne parliamo dopo con Cristian invece ve lo capire tu sei detto che praticamente a parte l'uvetta qui ti scofani tutto quello che c'è ma invece i clienti come sono più orientati verso il dolce più orientati verso il salato sai che questa è una bella domanda c'è già di prima mattina nel senso ovvio che alle 4 del pomeriggio magari prendo la pizzettina no beh ma al mattino c'è chi ama appunto il dolce appunto le brioche o a mezzamattina appunto noi sforniamo facciamo noi facciamo tutte noi i dolci quindi ogni giorno c'è a parte il classico brioche biscotti cannoncini ogni giorno facciamo un dolce diverso oggi c'è la torta di carote che la attendevano con ansia perché la faccio una volta alla settimana e quindi continuano adesso è il periodo del pandemorti 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 che cosa è castagna giusto no non è castagna la faremo settimana prossima quello è il castagnaccio è un'altra cosa è un castagnaccio è un'altra cosa che però diciamo che questo è il periodo invece il pandemorti com'è? pandemorti è fatto con casino di roba cioccolato nocciola uvetta burro pinoli nocciole c'è tutta roba buona è tutto mischiato poi viene fatto a tocchi e messo nelle teglie e si mangia ed è tipico tipico anche quello di questo periodo esatto tiene ancora il nome pandemorti e non non si chiama ancora halloween bread non è ancora diventato così però insomma è l'attimo che potrebbe diventare esatto il panmeino com'è? panmeino è il pane fatto con la farina gialla ah ok la farina della polenta qua della polenta è un dolce semplicissimo non c'è niente burro farina gialla un po' di farina bianca lievito vabbè queste cose qua molto morbido e si vende anche quello in questo periodo cioè perché questa è la stagione del di tutti questi dolcetti un po' particolari no? e poi appunto oggi mi arriva la farina per fare le castagne per fare il castagnaccio esatto che è anche questa è un dolce di di stagione che inizia cioè sono tanti no? i dolci che danno il tempo dell'anno che passa non è solo di solito siamo abituati ad avere la frutta di stagione esatto ma in realtà no c'è anche il dolce di stagione c'è anche il dolce di stagione sto pensando perché il pan dei morti vabbè è tipico appunto di questo mese nel senso lo fai fino ai morti poi arriva il panettone poi arriva il panettone poi dopo il panettone abbiamo febbraio infatti ma dunque adesso è un po' che si usano le chiacchiere anche verso Capodanno iniziano i tortelli tortelli tanto amati da Fabio non lo spoileriamo la cosa dei tortelli mi spiace per Beatrice e Gineva che non saranno qua con noi quando ci sarà il periodo dei tortelli perché la nostra redazione si riempie i tortelli esatto sì sì gli piacciono molto i tortelli con la crema oltretutto con la crema pasticcera fresca e quindi inizieranno poi appunto le chiacchiere ma perché carnevale non so neanche quando capita quest'anno non devo ancora guardare il calendario però già da gennaio iniziano finito le feste diciamo di Natale la Befana e tutte queste si iniziano con le chiacchiere i tortelli insomma tutta un altro tipo di dolce frittelle con le miele ecco Sonia vedi quello che dicevi tu prima sono le 8 e 42 e il signore ha preso invece un salato ha preso un pezzo di pizza ha preso un pezzo di pizza quindi è un amante del salato immagino il signore quindi vedi ci sono le varie le varie scuole di pensiero le varie scuole di pensiero poi alla fine convergono sul prendo tutto e mangio tutto esatto tanti prendono la merenda anche per andare a scuola no? si credo che il signore sia fuori fuori età da scuola credo ha finito da poco credo sia appena maturato però nel senso la ringrazio grazie mille appunto questo è quello che succede qua i clienti che passano i clienti abituali i clienti non abituali insomma c'è un po' di tutto comunque andiamo con un po' di musica e poi torniamo ancora perché io voglio sapere bene dei panettoni quindi Christian preparati che ci devi raccontare dei panettoni ed erano i Coldplay con Viva la Vida alle 8 e 47 minuti e insomma lo sappiamo fra pochi giorni sarà appunto il Ponte dei Morti ci sarà Halloween anche ma poi inizia il periodo in cui si scongela Maria Cerny arriva arriva il Natale e con Natale arrivano i panettoni esatto e a proposito di panettoni abbiamo il nostro esperto di panettoni che ci svelerà i segreti del panettono i segreti non si svelano innanzitutto non vi posso spiegare come si fa se sono segreti effettivamente ci sarà un motivo eh giusto nulla cosa volete sapere come funziona perché a me questa cosa della pesa la testa in giù poi mi ha sempre un attimo quello è il pezzo finale eh lo so meglio prima bisogna fare un pre-impasto un pre-impasto un pre-impasto che si chiama così che si fa con degli ingredienti semplici burro uova e farina così dopodiché si fa levitare ha un tempo di levitazione abbastanza lungo ah e sì intorno alle 8 ore circa cavolo poi si prende si rimette nella macchina si rimettono tutti gli altri ingredienti piano piano si fa un altro impasto che è l'impasto finale ok dopodiché si lascia riposare l'impasto si pirla il famoso detto pirla ah è da lì che arriva è da lì che arriva il pirlare pirlare si pirla si pirla beh aspetta Beatrice quindi Beatrice traduci si pirla cioè si fa che cosa eh dai Beatrice siamo in diretta io conosco il modo di dire pirla ma l'insulto eh quindi lo devi insultare lo devi prendere a male parole secondo te l'impasto no ok bravissima infatti non è così no invece ce lo spiega bene Cristia chissà cosa vuol dire pirlare allora innanzitutto vabbè bisogna fare le pezzature delle grammature ok generata dai vari panettoni e poi si pirla il famoso detto pirla significa si gira si gira la pasta continua a girare giri 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 finché non diventa una sorta di palla una sorta di palla ok dopo si lascia lievitare ancora in cella lievitatrice per 6-7 ore ancora poi si inforna dopo di che bello lungo sì 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 beh certo ecco perché è così buono ci sono circa 24 ore di lavorazione per fare il panettone in tutto questo le mie gocce di cioccolato quando vengono aggiunte? nel secondo impasto ah ok no volevo capire quando era il punto in cui devo arrivare ci sono vari vari gusti nel senso il panettone classico poi se tu vuoi fare il panettone a cioccolato quello che faccio a te invece di mettere i canditi una cosa non è che vi fa solo a me cioè vorrei dire non è che vi fa solo a me che poi la gente pensa che io corrompo il panettiere per avere solo io no è uno dei prodotti che fa e io ogni anno passo di qua a raccattarmi su quelle dozzine che servono per fare la merenda la mattina in realtà sì dopo di che si fa cuocere dal momento a fine quanto deve cuocere più o meno? dipende dalla grammatura però generalmente il chilo sta intorno ai 50 55 minuti ah ok la parte lì è quasi veloce diciamo sì e dopo di che c'è il famoso testa in giù ok quando si sfornano bisogna subito mettere le testa in giù ok perché? perché se li lasci così nella teglia normale tendono a scendere ah implode esatto al che si girano allora diventano le ciambelle diventano quel punto se no esatto rimangono nella forma che finché non si asciugano tutta la notte li lascio tutta la notte tutta la notte sì ma anche lì ci vuole tempo perché deve proprio asciugarsi e perché è molto soffice l'impasto del panettone quindi sarà bagnatissimo immagino esatto quindi si deve asciugare completamente e ci vogliono ore dopodiché passo lei che incarta che passare che incarta ok Bea ti ricordo qualcosa questa cosa del ci vogliono ore per asciugare immagino se è il problema tuo quando ti lavavi capelli ad esempio ah sì credo che no sia però vabbè prova anche te a mettere la testa in giù prova anche te a mettere la testa in giù e vedi 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 cosa si impara cosa si impara ma allora passiamo invece all'incartamento allora fai il giro dall'altra parte Bea prego aspettate che prendo la direttissima per arrivare si manda a quel paese noi le nostre idee di spostare gente di qua e di là nello studio ma insomma e questo è il bello della diretta così con alcuni in realtà no al lato opposto abbiamo l'angolo impacchettamento dove viene l'impacchettamento lo faccio tutto qua o vabbè o di là in laboratorio che ci sono i tavoli un po' più liberi praticamente niente si mette nel cellofan è una cosa semplicissima il cellofan semplicissima per te semplicissima per te anche per noi complicatissimo anche capire come è fatto un cellofan quasi quello che vedete dei panettoni poi viene messo un adesivo cioè un adesivo con la produzione con il giorno di produzione con i vari ingredienti tutti gli allergeni insomma tutte queste cose che di legge devi mettere nei vari alimenti freschi e poi dopo lo confeziono io li faccio molto semplici con un fiocchettino natalizio con la nostra etichetta produzione artigianale queste robe qua però poi gli faccio anche quelle più particolari su richiesta del cliente non so se vuoi la confezione dorata piuttosto che personalizzabile sì esatto perché al momento c'è chi c'è chi non gli interessa e c'è chi magari lo deve presentare lo deve regalare allora viene fatta una confezione più particolare a seconda di quello che preferisce la gente quindi non è capito Beatrice no ma non è una roba semplice va bene allora ringraziamo siamo in chiusura quindi dobbiamo ringraziare chi ci ha ospitato questa mattina qui appunto grazie mille per averci ospitato per averci fatto assaggiare i vostri brioche appena sfornate la mattina per averci spiegato bravissima alcuni dei procedimenti adesso pronti da domani a fare anche noi i panettoni in redazione tutta la testa in giù ci manca giusto qualche tecnica base ci sarà un tutorial su youtube fatto da Cristian sicuramente no non c'è potremmo gli abbiamo dato magari un'idea potrebbe aprire su instagram su instagram il nostro pane e dolci milano vedi di instagram vedete per ogni tanto pubblico come facciamo il panettone i pandemorti le meringhe le varie cose a seconda che si possono ricreare se ci mettiamo a guardare si sai cosa si può fare guardare dove va l'indirizzo e venire qua che fai prima forse secondo me la cosa comoda è bello bello lo so non fare bene andiamo a prenderlo forse è così grazie mille Sonia grazie Beatrice vieni qua che chiudiamo insieme allora a questo punto che oggi sei stata così sei stata la nostra panettuncina tra i dolci non chiamarmi io panettuncina che cosa vorresti la nostra meringa no che viene bella è bella è bella spumosa il mio preferito è il pan dei morti è il pan dei morti però mi era carino dire la nostra pan dei morti di oggi va bene la nostra castagnaccia non è anche questa è bello quindi insomma forse meringa era la cosa giusta comunque beh salutiamo da qui salutiamo perché insomma è finita la puntata di oggi chissà dove saremo la prossima volta che negozio vuoi testare adesso cerchiamo poi mi metto a lavorare io oddio cosa vuoi fare un ferramenta cosa vuoi no ferramenta non mi piace troppo casino troppo casino di sottofondo non mi ma Beatrice non è che ferramenta battono il ferro lo vendono no no non mi piace non mi piace il ferro che si muove non mi piace non si muove sta fermo non è quello il fabbro è l'acciaieria qualcosa di caldo e accogliente l'acciaieria è calda non so quanto accogliente no non voglio l'acciaieria non voglio l'acciaieria un maglificio siamo ancora lì fermi così un bel negozio di lana di gomitoli di gomitoli una bella merceria allora se avete una merceria e volete fare contenta Bea ospitateci la puntata ve la portiamo lì veniamo tutta la mattinata due ore poi dopo ce ne andiamo quindi non disturbiamo neanche non sporchiamo stiamo al nostro angolo e facciamo la nostra diretta qua grazie mille Beatrice grazie mille ancora Ginevra che è dietro la camera e alla regia video grazie a Cristal Radio per prometterci tutti i giorni di essere qui in diretta con voi sono le 8 e 55 minuti in diretta appunto su Cristal Radio conclude qui in questo istante la puntata di oggi di Good Morning Milano e allora ve lo ricordo dopo di noi appunto Ambrogio Curti con Senti Questa le 9.05 come sempre qui dopo il giornale radio ci racconta la grande musica italiana e non solo leggendo tra le righe del pentagramma grazie ancora a Ginevra la regia grazie ancora Beatrice in redazione e grazie soprattutto a Pane Dolci che ci ha ospitato qui questa mattina grazie mille se volete riascoltare rivedere i pezzi di oggi rivedere anche cosa abbiamo gustato di buono qui da Pane Dolci c'è il nostro sito goodmorning.milano.it poi troverete anche tutte le indicazioni anche per seguire comunque Pane Dolci sui social ad esempio quindi insomma possiede tranquillamente anche voi venire a testare tutto quello che vi abbiamo raccontato questa mattina e noi allora vi diamo appuntamento a domani grazie mille ancora di averci seguito come sempre in diretta domani mattina dalle 7 alle 9 torniamo nel nostro studio al caldo come dice Beatrice gli piace Beatrice sta già vivendo male questa arrivo dell'inverno e ve lo dico non la sta vivendo bene siamo solo all'inizio Beatrice siamo solo al 15 di ottobre anzi a proposito da oggi si possono accendere gli scaldamenti non l'abbiamo detto quindi se volete da oggi cambio gomme e accensioni degli scaldamenti se volete no non le cambio delle gomme del monopattino quelle della macchina se le avete se no tante tranquillamente così che va bene a domani mattina dalle 7 alle 9 su Crystal Radio c'è Good Morning Milano in diretta sui 96.2 FM Dub Plus in tutta la Lombardia e l'app per iOS e Android e poi c'è il sito internet crystalradio.it ciao a tutti a domani ciao ciao